Nella frazione Santa Maria, a Lamorra, nel cuore delle Langhe, al centro della regione del Barolo, si trova l'hotel Santa Maria. L'atmosfera accogliente, gli svariati comfort offerti, la disponibilità e gentilezza del personale caratterizzano questo hotel immerso nelle colline. La gelateria artigianale, il ristorante, la piscina coperta, il centro fitness e la beauty spa fanno sì che l'hotel e il suo personale possano prendersi cura di voi, partendo dall'enogastronomia per arrivare al benessere del corpo e della mente. Hotel Santa Maria Lasciatevi coccolare! Hotel Santa Maria Lasciatevi coccolare! Lasciatevi coccolare! Hotel Santa Maria